Difendere la libertà di stampa, a Varsavia e in altre città polacche si sono svolte manifestazioni contro il piano che prevede di restringere l'accesso dei giornalisti al Parlamento. Nella capitale i dimostranti hanno bloccato l'ingresso della Camera e i membri del governo sono stati costretti a rimanere all'interno fino a che non sono stati scortati fuori dalla polizia. Il leader del partito di maggioranza, diritto e giustizia, Jaroslav Kaczynski. In molti paesi europei che voi citate a esempio di democrazia ci sono restrizioni all'accesso in Parlamento per la stampa, anche più severe di quanto proponiamo noi. Per noi si tratta solo di ristabilire l'ordine. I parlamentari dei tre partiti di opposizione hanno esposto uno striscione e cartelli con su scritto Libertà di stampa. La protesta ha bloccato i lavori della Camera che stava esaminando la legge di bilancio. I parlamentari del partito di governo, diritto e giustizia, che ha la maggioranza assoluta, si sono spostati in un'altra sala del Parlamento.